Salve e benvenuti in Dr. Spy. Oggi con questo video vi presentiamo la nostra microcamera Wi-Fi con ottica presente all'estremità di questo flat flessibile. Andiamo a vedere più nel dettaglio le caratteristiche di questa microcamera. Ecco come si presenta più da vicino la nostra microcamera Wi-Fi con ottica all'estremità di un flat flessibile. La sua estetica ci permette di occultare facilmente il dispositivo perché grazie a questo flat siamo in grado di posizionare l'ottica in un punto ovviamente senza ostacoli per riprendere una determinata zona e ci basterà nascondere invece poi tutto il modulo da un'altra parte. Il modulo stesso all'interno ha una batteria litio ricaricabile, lo ricarichiamo in circa 4 ore ed ha un'autonomia in funzione quindi collegato ad internet di circa 4 ore. Il dispositivo appunto va collegato ad una rete internet presente nell'ambiente e trasferirà in automatico, in streaming, in tempo reale il video che l'ottica sta riprendendo. Parliamo di un'ottica di 90 gradi in full HD a colori. Questa che vediamo qui invece è l'antenna per il collegamento Wi-Fi della nostra microcamera. All'interno possiamo inserire una memoria SD fino a 32 giga qualora volessimo registrare gli eventi mentre la microcamera è collegata ad internet senza dover per forza accedere all'applicazione e cliccare il pulsante per la registrazione. Abbiamo anche un microfono all'interno del dispositivo omnidirezionale fino a 10 metri che ci permette di coprire circa 20 metri quadrati quindi oltre al video avremo anche l'audio. Trovate il nostro articolo presso la nostra sede oppure direttamente sul sito internet drspy.it. Grazie per averci seguito, ci vediamo nel prossimo video.